Ciao a tutti! Oggi parliamo delle forme del verbo. Il verbo ha tre forme attiva, passiva e riflessiva. Attiva il soggetto compie l'azione. Sofia mangia il panino. Passiva il soggetto subisce l'azione. Il panino viene mangiato da Sofia. Riflessiva il soggetto compie un'azione su se stesso. Sofia si lava. Il video si conclude qui. Mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanella e lasciate like. Ciao!